458.000 euro alla ex provincia per la messa in sicurezza dei fiumi Anapocciane in Mammaia Bica. Il Dipartimento dell'Ambiente dell'Assessorato Regionale del Territorio dell'Ambiente ha concesso alla ex provincia di Siracusa un contributo finanziario di importo complessivo per 458.000 euro a valere sul programma operativo complementare 2014-2020 per il monitoraggio del rischio idrogeologico per la prevenzione, la gestione e la manutenzione del rischio di inondazione dei fiumi Anapocciane e Mammaia Bica nel territorio della provincia di Siracusa. Lo comunica l'on. Vincenzo Vinciullo. Sono particolarmente soddisfatto del contributo che è stato destinato alla ex provincia di Siracusa sia perché verranno finalmente eseguiti i lavori per la messa in sicurezza degli argini dei fiumi in modo da garantire le proprietà private e le coltivazioni nei campi sia perché ad oltre sette anni continua a produrre effetti positivi per il nostro territorio dimostrando ancora una volta la correttezza e la lungimiranza della mia azione politica e amministrativa.